La sanità non si tocca, così come i servizi essenziali per i cittadini. Non si può pensare solo alla razionalizzazione della spesa senza immaginare i conseguenti disagi. L'ospedale di Agropoli sarà riconvertito, ma sembra essere stata trovata un'intesa per salvaguardare la struttura dopo l'incontro tenutosi alla presenza del Presidente regionale della Campania Stefano Caldoro e una delegazione dei sindaci del territorio a sud della provincia di Salerno, capeggiata dal primo cittadino di Agropoli, Franco Alfieri. Caldoro ha ribadito il suo concetto ai sindaci, l'ospedale di Agropoli non chiuderà, avrà soltanto una nuova funzione sanitaria. Domani è previsto a Palazzo Santa Lucia, sede della giunta regionale, un confronto tra il subcommissario alla sanità Mario Morlacco, i sindaci del Cilento e il manager dell'asile di Salerno, Squillante. Un incontro dal quale si spera possa arrivare una schiarita definitiva per il nosocomio agropolese. Sul piatto della discussione ci sarà l'argomento PSAUT e il suo potenziamento, una struttura che dovrebbe andare a regime già da mercoledì prossimo, 20 giugno, sostituendo di fatto il pronto soccorso. Caldoro è stato chiaro, leggendo bene il decreto della precedente giunta regionale, avrebbero dovuto chiudere non solo l'ospedale di Agropoli, ma anche quello di Scafati e Pagani, e invece così non è stato. Ma la risposta più importante dovrà arrivare dal Ministro Lorenzin, perché per tenere in vita i nosocomi a rischio chiusura servono fondi. La riconversione attuale infatti non può non essere letta soltanto come una fase cuscinetto prima di capire cosa ne sarà del destino degli ospedali, oggetto di provvedimento di chiusura. Del resto, chiudere da un giorno all'altro un ospedale, con tutto quanto ne consegue per i servizi del territorio, sarebbe stata pura follia. Da mercoledì l'OPSAUTO dell'ospedale di Agropoli garanterà una presenza H24 di un medico specializzato e un paio di infermieri. Ci saranno anche tre ambulanze disponibili per l'eventuale trasferimento di pazienti in altre strutture. Intanto, la forte protesta dell'altro giorno in Via Nizza, sede dell'ASA di Salerno, si è conclusa grazie all'intervento proprio di Caldoro. Anche se i sindaci vogliono adesso risposte concrete, domani le chiederanno a Musodura Morlacco. A Cava dei Tirreni, invece, accordo di convenzione tra azienda universitaria Ruggi d'Aragone di Salerno e ASL per il potenziamento del pronto soccorso. Il Santa Maria dell'Olmo garantirà la copertura di nuovi turni della Guardia Medica con 300 ore mensili per il periodo che va dal primo luglio prossimo e fino a tutto il mese di novembre. Il Movimento 5 Stelle di Cava dei Tirreni, però, propone anche altre soluzioni per il futuro dell'ospedale. Riconvertire il nosocomio in una piattaforma di emergenza e stabilizzazione, così come avviene a Castiglione di Ravello, oppure utilizzando l'attuale struttura ospedaliera o anche il poliambulatorio di Via Gramsci.